pomeriggio un po snaus, un po snausikant siamo gente dei valori ma siamo anche esseri umani concentrato emozionarum emozionibus emozionandum staccato tutto cellulare ho buttato giù i palloni dal divano che sui palloni si riposta tanto bene e poi vabbè insomma tutto bene ho trovato a casa ma va a riposarmi un po perché oggi snaus, oggi snausikant, oggi umano, umani, esseri umani, human being e poi snausikant un attimo prima di andare mi arriva un messaggio di uno di noi ti ricordi Lorenzo quel ragazzo del lanciano che gli servivano 6 piotte per andare sopra in America purtroppo non gli aveva affatto, in America c'è nato ma Lorenzo Costantini non gli aveva affatto, vent'anni io ho tutte le possibilità, posso passare un pomeriggio un po snaus, posso mettermi su off ma io ho tante possibilità come dice il mio amico Davide Biancone che anche lui insomma c'è che ne è proprio ok eh che braccia mani e gambe aiuta no e lui che proprio 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 per controllo ancora la situazione non ce la dice una sera mi ha fatto una lezione universitaria privata a bordo del prodotto italico mi ha detto io ho tantissime possibilità io ho tutte le possibilità del mondo sono molto fortunato Davide proprio 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 ecco che la mattina non è che ce l'ha proprio tutto 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 ok perché braccia mano gambe e piedi vi aiutano se qua dicono io ho tutte le possibilità mi sono riposato ho snazzicato, ero un po' snaus ma non mi manca niente io ho tutte le possibilità e tutto va ciao Lorena non c'è bisogno di conoscere la persona per provare profonda risperazione per un ventenne che non c'è più un atleta, un ragazzo un figlio per i genitori e per gli amici non c'è bisogno di essere amico loro sono amico loro, sconosciuto è bella per te ci siamo tutti immobilitati per darti una mano ce l'abbiamo messa tutta ma non sempre che è bravo è bravo vuole far bravo ogni tanto fa il fenomeno, bella per te e buttala dentro supera quella barriera nuova nuova barriera io ho tutte le possibilità ora marso in piedi e viva la vita, me ne vado a casa a mangiare un piatto le pasta tanto che non perdo peso ho tutte le possibilità è tutto e se un giorno è snows off ma domani è un altro giorno e andrà tutto meglio tutto bene tutto come saprò farlo andare perché dipende tutto da me e posso giocare la partita coglione bella per te come sta il traffico? un bel casino capisco